Ok, ciao amici! Allora, volevo fare il video del video tag troppo, cioè il video del video tag a me non si dice, è comunque uguale volevo fare il video tag quello che ho condiviso su Facebook se non siete miei amici su Facebook fa niente delle 100 domande perché a me piace troppo rispondere alle domande quindi lo devo fare per forza quindi le prime domande non mi piacciono però fa niente, le faccio lo stesso nome? Paola soprannome? Nessuno, Paola e basta non mi danno soprannome poi, numero di candeline sull'ultima torta di compleanno 19 data in cui spegni le candeline 26 maggio segni particolari nessuno luogo di nascita Bergamo altezza 1,72 colore degli occhi marroni, colore dei capelli marroni anche se ce n'è qualcuno di bianco numero di scarpe 39,40 occhiali ni cioè ce li ho da vista e anche da sole ovviamente ma non li metto mai poi mi sono persa eye piercing sì devo dire quali si vedono abbastanza vabbè tatuaggi non ancora ne ho in progetto alcuni bellissimi poi animali domestici se può valere come animale domestico ho un fratello di 4 anni ti piace il tuo lavoro? non ho un lavoro però se ne trovassi uno spero di trovarne uno che mi piaccia ti sei mai ubriacato? sì ti sei mai innamorato? sì hai già amato qualcuno al punto di piangere? sì hai mai avuto incidenti in macchina? per fortuna no però sto facendo le guide per prendere la patente ma sono un incapace hai mai avuto incidenti in moto? mai e mai ne avrò visto che la moto l'odio vino rosso o vino bianco? bianco possibilmente frizzante coca cola o pepsi? dipende da cosa sto mangiando però coca cola lemon soda orange soda nessuno delle due perché non mi piacciono caffè normale o macchiato non bevo caffè caffè zuccherato amaro non bevo caffè zucchero normale o di canna boh non lo so cioè non mi trovo la differenza io poi coperto a piumone piumone assolutamente cioè piumone a vita lasciare o essere lasciati e cioè nel senso alla fine se lasci tu soffri di meno perché hai deciso di fare questa cosa però se ti trovi davanti a quello che comunque piange cioè stai male però essere lasciati è ancora peggio quindi alla fine credo lasciare colore dei calzini verdi 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 ma io mi perdo cioè numero preferito undici film preferito non ne ho uno preferitissimo però ne ho visto uno troppo bellissimo su youtube cioè c'era il film completo che parlava tipo di una principessa che però aveva il mondo parallelo dove vedeva tutte le le sirene gli unicorni troppo bellissimo citazione cioè nel senso modo di dire credo vivi e lascia vivere che non so di chi sia però ha ragione computer o playstation allora assolutamente computer però playstation qualche volta ci sta giorno della settimana assolutamente sabato perché perché sì perché è sabato anche domenica non mi dispiace canzone preferita attuale allora attuale non cioè ne ho troppe non è che ne ho una in particolare ma comunque qualunque cosa comprenda hardcore old school dall'inizio fino al 2002 mi piace canzone preferite in generale idem sono troppe però mi piace Gabbertime di Tricep sad che sicuramente non sapete chi è ma non fa niente poi oh madonna quante cazzo sono programma televisivo non so come si chiama cioè mi piace c'era una volta su rai 4 credo che parla praticamente dei quelli delle favole tipo c'è n'entra così che però solo nel mondo reale mi piace tutte quelle cose fantastiche oppure quello di quella ragazza è su sempre su rai 4 di quella ragazza che è morta che però ancora viva fa parte dei non morti che aiuta la gente a morire buona roba del genere bellissimo poi telefilm preferito non ce l'ho Glee Glee dai che bello poi cartone preferito Adventure Time assolutamente a vita hai mai nuotato nudo non che io ricordi cocktail preferito basta che sia dolce non è che ce l'ho preferito sogno son desto sogno sempre sport praticati allora praticati in passato ma veramente passato passato ho fatto equitazione ginnastica artistica pallavolo e basta credo e basta però pallavolo è quello che è durato più di tutti poi sport preferito da vedere dal vivo pallavolo credo sport preferito da vedere alla tv patinaggio sul ghiaccio mi piacciono solo i costumi però fa niente pasta o pizza pizza assolutamente come ti vedi da qui a dieci anni uguale adesso non lo so magari con un po' più di capelli bianchi o un po' più di capelli in generale cosa fai quando ti senti giù ascolto la musica vabbè quella ascolto sempre mangio dormo mi isolo diciamo ecco oppure chiamo qualcuno che so con cui posso parlare e gli dico tutte le cose per cui mi sento giù parolaccio che dici più spesso troppissime ma porca puttana è la best poi frase che dici più spesso frase che dici più spesso lascia perdere e lascia perdere lo dico sempre cosa odi? vomitare e piangere l'odio chi non sopporti le persone che fanno troppe domande cioè se ho voglia di dirti le cose te le dico senza che mi fai le domande oppure quelli che urlano troppo ma urlano nel senso aggressivo non urlano con un tono di voce alto amore stai interrompendo il mio video potresti andare di là per favore? no Franci questo è il mio animale domestico per favore ti prego se vuoi stare qui ok però stai zitto poi chi non sopporto ecco chi mi disturba durante i video qual è la cosa più bella che esiste? questo bambino che mi disturba durante i video poi a che ora vai a dormire? no no rari faccio quello destroso mancino destroso segno zodiacale gemelli punto debole non lo so dipende dai periodi perché a periodi è l'irritabilità oppure niente sei muto poi dai Franci ti prego dai che mi hai fatto perdere guarda ricordo più brutto quando mi hanno obbligato a trasferirmi ricordo più bello quando è nato lui mio fratello bellissimo era piccolissimo così e aveva tutte le manine tutte screpolate un cozzino tutto schiacciato in faccia con colore che tutte piccoline gli occhi chiusi un cesso ma troppo bello poi la migliore qualità allora questa è la qualità che alla fine mi hanno detto gli altri cioè che un'altra persona mi ha detto tu sei in quello nel senso che io riesco a far sorridere le persone nel senso se uno è triste sta con me sorride fine spero comunque il peggior difetto sono guardami ecco il peggior difetto sono per malosa poi amore ti prego vuoi venire in braccio? qualità qualità che ti riconoscono non lo so sono diretta sono sincera difetto che ti attribuiscono no 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 fammeli mettere mettimeli difetto che ti attribuiscono sono un po' stupida di cosa hai paura? amore di vomitare o di cosa comunque questa è una cosa dà dei serpenti po' dei serpenti to 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 e poi un obiettivo riuscire a trovare una casa mia dove i bambini non entrano sì che entro io i bambini ho detto te sì però silenzio poi il primo pensiero la mattina penso sia Cristiano Bruno l'ultimo prima di andare a letto spero di aver fatto la pipì perché ho letto alto e devo rifare la scala per andare a farla e poi io sono poi la prima cosa che guardi in una persona del sesso opposto il sorriso gli occhi il sorriso cioè la prima cosa che si vede insomma l'amore si è fatto cadere l'anello raccoglilo la qualità no sai cantare non so cantare ma non sono stonata cioè nel senso non è che però cioè se mi dicono canta tanti auguri non è che questo pezzo lo taglierei se fossi capace poi credi in te stesso dipende a volte sì aspetta un attimo che ci siamo persi ok pensi di essere attraente allora dipende 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 non sempre a volte sì però vieni su ok bravo poi bravissimo mi fai perdere vai d'accordo con i tuoi genitori sì bravissimo ha risposto lui per me poi suoni uno strumento in passato suonato la tastiera il flauto il clarinetto poi 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 a che tal primo bacio un terza media così sì amore così presto poi stai tranquillo lui l'ha già dato all'asilo il primo bacio però però l'ho già dato adesso perché l'ho andato a prendere le scarpi e però non è andato oggi all'asilo vabbè bravo amore poi faremo un video anche per te per l'animale domestico stai fermo poi poi la paura un po' stondino nome che odi mi piacciono i nomi che hanno tutti cioè nel senso la paura un po' stondino franci franci se non la smetti non faccio più la merendina con te guardami allora nome che odio quelli che hanno tutti nel senso jessica laura francesca tutti ce le hanno cioè sono i più comuni a me piacciono i nomi particolari poi un attimo dove siamo arrivati aiutami meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare rimpiangerlo meglio tentare pentirsi assolutamente credi nel destino sì credi in dio sì io non bestemmio assolutamente sangue freddo caldo freddo non ce l'ho poi 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 inverno estate inverno perché mi piace il più buone mare o montagna mare d'inverno e montagna inverno estate tutte e due sai chiedere scusa solo a chi voglio io sei per malosa sì cosa cambieresti di te la ciccia e forse forse il naso perché ti spiego perché perché da davanti sembra un po' patata e di profilo un po' punta non lo so poi 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 hai mai rubato i gessetti alle scuole elementari ami il rischio dipende che tipo di rischio se devo rischiare la vita sì se devo rischiare di essere magari arrestata no sai stare da sola sì assolutamente sei felice no per niente vuoi avere figli sì due ma non così poi matrimonio convivenza prima convivenza e poi matrimonio secondo me giusto per provare no convivenza poi 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 essere o apparire essere o apparire 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 assolutamente perché alla fine se appari la gente ti vuole conoscere poi quando ti conosce sei sanno come sei alla fine giusto? giusto bravo e se sei e appari insieme ancora meglio la bella o la bestia? la bestia se sai abbassare la testa no mi fa male il collo l'emozione che più ti tocca la nostalgia assolutamente cosa non faresti mai? cosa che non farei mai? una gara in moto credo qualcosa che ti può morire non la farei mai tre desideri al genio della lampada soldi salute e bellezza ti sei rotto le palle rispondere a queste domande? sì perciò ciao amici grazie